Allora Devo alzare un attimo il volume perché si sente un po' di più Siamo pronte? Siamo pronti? Let's rock! Avviciniamo un po' il microfono È venerdì È venerdì Ed è bello che è così Ed è bello che è così È così È così È venerdì È venerdì È venerdì È venerdì Ed è bello che è così Ed è bello è venerdì È venerdì È venerdì Venerdì Bellissimo questo trumpet Questo trumpet è fantastico Ciao belli, benvenuti al nuovo video di venerdì Fatemi spengere tutto Spengiamo tutto Che si consuma corrente In realtà c'è un altro problema Oltre che si consuma corrente C'è il problema che si sente questo sottile rumore di fondo Che mi dà un fastidio tremendo Ma mi dà proprio fastidio Un attimo che mi aggiusto Non vi innervosite, arrivo Volevo giusto vedere, sì, più o meno Storta di inquadratura Vabbè ma non fa niente Eccomi qua, miei fantastici Baci a tutti, benvenuti Votate questa sigla fighissima Secondo me molto molto bella I voti consentiti sono 1, 3, 5, 7, 9, 10 10 è l'ode, 10 è l'ode, 10 è l'ode di menzione speciale 10 è l'ode di menzione speciale Bacio accademico 10 è l'ode di menzione speciale Bacio accademico Premiazione su Plutone Ok, basta L'argomento di oggi è Parliamo di metodo di studio Ho fatto altri video Dedicati al metodo di studio Però mi piace insistere su alcuni punti Anche a seconda di quelli che possono essere i cambiamenti che ho individuato negli ultimi anni, anche nell'ultimo anno di scuola, come professore, come insegnante, e quindi ripensando a me come studente. Ecco perché faccio un nuovo video sul metodo di studio. Non è mai abbastanza... non si dedica mai abbastanza tempo alla discussione del metodo di studio. Una domanda che mi fate tante volte, mi piace rispondere, vi ricordo che non esiste un metodo di studio specifico. Esistono una serie di regole da seguire e quelle ti portano al tuo personale metodo. Poi trovi tu un accomodamento all'interno di queste regole. Ed è di queste regole, in particolare, di cinque aspetti fondamentali che se fai, se segui, allora ti porteranno ad un'ottima tecnica di acquisizione della conoscenza, di studio, eccetera, eccetera, di riflessione e tutto quanto. Prima di fare questo, naturalmente abbiamo votato la sigla, vi ricordo una cosa importantissima. Io ho cominciato a girare i teatri italiani con il mio tour, la mia lezione di fisica in tour, perché tutto a tutti gli effetti è una lezione, ma di una bellezza incredibile. Voi lo sapete come sono le mie lezioni, l'avete visto online. Allora, venitemi a vedere a teatro. Vi ricordo, vi lascio il link di tutto il tour teatrale. Mi dispiace dirlo, ma ovviamente mi fa enormemente piacere anche nello stesso tempo dire, un sentimento dolce e amaro, quello di alcuni teatri che sono già sold out, le date sono anche molto lontane. Mi dispiace di non aver fatto più date, però vi devo dire la verità. Io quando ho iniziato tutta questa storia del tour teatrale, io non mi aspettavo il successo, anche la richiesta di posti. Quindi, altrimenti avrei ragionato su due date per ogni città, però io ho detto, boh, ho pezzato, i miei fantastici love mi verranno a vedere a teatro, mi è venuto un po' l'ansia. Ecco perché abbiamo una data per ogni città e in alcune città non ci sono, ma non c'è problema, il calendario è in aggiornamento. Ok, stop, finito, andiamo. Anche perché non vi voglio dare altri video, vi darò un paio di cose alla fine di questo video. Così andiamo subito all'attacco, all'azione. Allora, attenzione, leggiamo la lavagnata, dopodiché commenteremo i pezzi una alla volta. Andiamo. Il metodo di studio si fa attraverso cinque fondamentali regole che dovete sempre, ossessivamente, lo sottolineo, ossessivamente, si dice ossessivamente, si pensa di sì, seguire. Occhio. Numero uno, attenzione in classe. Le commentiamo tra un attimo, perché sembrano alcune scontate, non lo sono per niente, anche perché molti pensano che siano scontate, ma in realtà non le applicano. Occhio. Numero due, sfrutta tempi. Numero tre, scrivi tutto. Numero quattro, usa la voce. Numero cinque, vai volontario. Partiamo da numero uno. Attenzione in classe. Allora, ragazzi, quando io andavo a scuola, io facevo... L'ho detto, l'ho detto, lo so che alcuni lo sanno, però è meglio dirla un'altra volta, sta cosa. Io facevo il liceo scientifico e il conservatorio. Cioè andavo a scuola, dalla mattina alla sera. Io ho tempo per studiare a casa, non ne avevo. Io l'ho sempre sottolineata questa cosa. Quindi io dovevo massimizzare il risultato. In classe! Perché se non massimizzavo il risultato in classe, che vuol dire se non capivo il più possibile, se non studiavo già in classe il più possibile, io ero fregato. Per non dire un'altra parola. Perché arrivavo a casa molto spesso la sera, alle sette, alle otto, ed ero stanco. Ed ero anche stufo. C'era abbastanza stufo di dover rimettermi di nuovo sui libri a studiare. Quindi, lo dico molto candidamente, alla maggior parte delle volte era talmente efficace lo studio in classe che mi bastava. Mi era sufficiente. Poi dovevo soltanto calibrare e risparmiare ancora più tempo, cercando di capire a ogni insegnante quello che voleva. Se c'era quello che voleva che andassi volontario, me lo toglievo subito davanti. Se c'era da fare uno scritto e sapevo che lo potevo ingaggiare, acchiappare subito, lo acchiappavo subito. Però, voglio dire, la cosa fondamentale per me, come studente, è stata l'attenzione in classe. Ed io sono stato molto fortunato. Sapete perché? Perché non sono cresciuto scolasticamente parlando in questo periodo, che è un periodo difficilissimo. Io non avevo il cellulare, ma perché il cellulare non esisteva? Quella è stata una gran fortuna. Io lo dico. È stata una grandissima fortuna, una botta di culo, di essere nato nel 77 e di essere andato a scuola, vi sto facendo gli anni delle superiori, dal 91 al 96. Questi sono 1991-1996. Sono stati i miei cinque anni di scuola superiore. È stata una gran fortuna l'inesistenza del cellulare, la non esistenza del cellulare. È stata una gran botta di fortuna. Perché non c'era l'elemento primo che distrae. L'attenzione in classe ce l'hai quando sei veramente sul pezzo. Ricordatevi una cosa, ragazzi, io la dico con molta, come si può dire, onestà. Io capisco che la scuola è lenta, che la scuola è noiosa. Lo dico, e non mi vergogno di dirlo, cioè i tempi scolastici, quando un professore spiega, un professore parla per 40 minuti. E non è facile stare ad ascoltare una persona per 40 minuti. Intanto scientificamente parlando è provato, è dimostrato che la nostra attenzione, proprio dobbiamo essere davanti a una persona super carismatica, reggiamo mezz'ora, 40 minuti. Dopodiché iniziamo a distrarci. Cioè è normale. Quindi il problema è proprio questo. Proprio perché la scuola è lenta, proprio perché la scuola purtroppo è rispetto al resto del mondo noiosa, mettiamolo fra virgolette questo noioso, noi dobbiamo allenarci, sfidare la nostra attenzione. Sfidate, sfidate la vostra attenzione in classe. Vi dovete sfidare, deve diventare una gara con voi stessi. Queste sono le challenge belle nella vita. Sfidatevi, avete di fronte un professore che parla e che ha un tono di voce così. Ma voi volete acchiappare, volete acchiappare il più possibile di quella lezione. Allora sfidatevi, ce la potete fare, state sul pezzo. Se in quel momento, voi se avete l'attenzione, però dovete avere l'attenzione, dovete essere massimamente concentrati, non capite, alzate la mano, intervenite, dite, intervenite, prof, vediamo se ho capito. Mi sembra di capire che Giulio Cesare, e poi paparapapapa, è giusto, chiedete conferma, cioè cercate di rimanere agganciati, perché il passo da essere sul professore, ad essere sul cellulare, sotto il banco, è così. È brevissimo, è brevissimo. È quello il problema. La sirena, nell'odissea, Ulisse, veniva ammaliato dal canto delle sirene, e diceva legatemi, perché io so che le sirene cattureranno la mia testa, e quindi, allora voi, invece di dire legatemi, ditevi da soli, mettete le mani sul banco, mettete le mani sul banco, ora vediamo al punto 2, aspetta, al punto 4, in realtà al punto 3, punto 3, legati, prendi la penna in mano, e stai lì. Perché se tu riesci ad acchiappare informazioni, riesci a studiare in classe, davanti al professore più noioso del mondo, col tono di voce più piatto del mondo, tu hai fatto un passo enorme dal punto di vista del metodo di studio, un passo enorme, perché allora tu sarai attento davanti a tutti, anche alle persone meno piatte, meno noiose, più brillanti, capite? Ecco perché è fondamentale, io ve l'ho detto ragazzi, sentite a me, poi scrivetemelo nei commenti, se siete riusciti a fare il cellulare, lasciatelo a casa. Sentite a me, quelle 6 ore, quelle 5 ore, voi le dovete sfruttare al massimo, fidatevi, le dovete sfruttare al massimo, cioè devono diventare ore in cui dovete produrre il più possibile, ma lo sapete perché studierete meno a casa, cioè comincerete a notare che avete bisogno meno di studiare a casa. E questo, il punto è questo, anche perché, perdonatemi, ma allora uno, perché dovrebbe stare chiuso in un edificio di cemento per 5 ore, se non per approfittare e apprendere in quel momento, capite? E quello è il trucco, il trucco è acchiappare il più possibile la mattina, più acchiappi la mattina, meno fai la sera. Ok, 12 minuti, troppo. Vai, andiamo, veloce, veloce, ragazzi, andiamo. Numero 2, numero 2, sfrutta i tempi, aggiungerei morti. Quali sono i tempi? Qui sto parlando sempre di scuola, eh? Qui sto parlando sempre di scuola. Sfrutta i tempi morti. Quali sono i tempi morti a scuola? Ah, voglio quali sono i tempi morti. Un sacco di tempi morti. Che cosa sono i tempi morti? Tempi in cui, tecnicamente, non c'è da fare nulla. Faccio un esempio. Si fa il compito in classe. Tu finisci il compito in classe, consegni 20 minuti prima. Capita, succede. Non a tutti, ma succede. C'hai quei 20 minuti, sfruttali. Arriva l'ora di supplenza. All'improvviso scopri che in questa giornata, a terza e quarta ora, c'è supplenza. Mettiti a lavorare. Mettiti a studiare. Quello è un tempo morto. L'interrogazione di altre persone. Madonna santo. L'interrogazione di altre persone. Non è un tempo morto. È un tempo vivo, molto vivo. Solghi tu. Se ti fai i fatti tuoi, durante l'interrogazione delle altre persone, è un problema. Quello rappresenta un problema. Perché? Tu sarai interrogato in quella materia. Tu dovrai fare un compito in quella materia. Acchiappa informazioni, mentre la professoressa interroga l'amica, l'amico. Mentre stai interrogando, acchiappa, scrivi, segna. Prova a capire se sai rispondere a quelle domande. Perché tanto sono le stesse domande alle quali dovrai rispondere tu quando farei il compito l'interrogazione. Poi tu dici, vabbè, ma io l'ho fatto il compito di quella materia. Ma io l'ho fatta l'interrogazione di quella materia. Benissimo. Sfrutta allora quei tempi durante quell'interrogazione per studiare altro. Cioè capite? Voi avete mezz'ora. Quanto mette la professoressa a interrogare? Mezz'ora altre persone. A voi quella interrogazione potete permettervi di non seguirla? Benissimo. Studiate altro. Fate altro. Cioè capite? Quelli sono tempi morti. Altri tempi morti ve li posso raccontare. Ve li racconto io. I miei tempi morti. Io viaggiavo, io viaggiavo ed io aspettavo il pullman. Certe volte anche che era in ritardo. Arrivava in ritardo. Mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora ad aspettare il pullman con il culo seduto sulle chianche pugliesi, sui muretti a secco. Perché me la ricordo la strada via Castellana dove io prendevo il pullman. Da dove prendevo il pullman. Quelli per me erano tempi morti. Una volta, due volte, tre volte. Poi a un certo punto ho detto. Oh, sai che c'è? Io mi metto a fare i compiti, mi metto a studiare. Mi metto a fare quello che comunque dovrei fare a casa. Allora, dieci minuti in là, più venti minuti in là, più mezz'ora in là, più un'ora in là. La somma fa il totale. Capiscimi? La somma fa il totale. Tu ti sei fatto due ore che altrimenti ti saresti dovuto fare a casa. Capite che vuol dire? Sfruttate la mattina. Sfruttatela al massimo. Il pomeriggio, il pullman, eccetera. Andiamo avanti. Troppo lungo. Numero tre. Scrivi tutto. Scrivi tutto. Tutto, tutto devi scrivere. Tutto. Anche se la mattina incontri qualcuno che dici come stai? Bene. Apri il quaderno e scrivi come stai? Bene. Dovete imparare a scrivere tutto. Tutto. L'abitudine di scrivere è un'abitudine di testa. Il metodo di studi... Ma qual è il miglior metodo di studi... Scrivi. Scrivi. Mentre la professoressa sta facendo la lezione alla magna. Apri il quaderno di quella materia. Fatti il quaderno di quella materia. Scrivi a stampatello. Io ho una scrittura pessima. Io ho una scrittura pessima. Forse sono disgrafico. Però al tempo non si diagnosticava questa cosa qua. Forse sono... Io scrivo a stampatello perché è uno schifo di scrittura. Però scrivo. Scrivo sempre. Perché la mente s'allena. La mente diventa sempre più... Si evolve. La mente ti stupisce. Però la devi allenare. Se no la mente. Così. Scrivete. Cioè sta facendo lezione alla professoressa. Scrivi. Cosa devi scrivere? Sta parlando. Sta dicendo delle cose. Scrivi delle parole chiave. Collegale con le frecce. Comincia ad inventarti dei flussi di linguaggio scritto. Che saranno utili a te. Saranno utili a te. Che te frega dell'amica, dell'amico, se non capisce niente i tuoi appunti. Tu devi capire i tuoi appunti. Perché a te saranno utili poi per ripetere. Guarderai gli occhi. Guarderanno queste parole chiave. E dalla mente riaffioreranno i concetti. E una volta che avrai ripetuto due, tre volte quei concetti. Tu sarai capace di esporli. Però devi abituarti a scrivere. Cioè. Gira con un quaderno in mano. E qualsiasi cosa le persone dicono. Dicono. Scrivi. 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 Cioè. Voi ridete. Ma in realtà è così. Perché poi. Io dici. Ma io non so prendere appunti. Sai perché non si sa prendere appunti? Perché non si prendono. Perché non si apre mai il quaderno. E non puoi pretendere che la professoressa, il professore faccia il dettato. Perché è sbagliato. Attenzione. Io non sto dicendo che. Non sto dicendo che è sbagliato che il professore faccia il dettaglio. Il professore può fare quello che vuole. Può seguire la sua linea. Sto dicendo che è sbagliato aspettarselo. Cioè. Pretendere che io scrivo nel momento in cui l'insegnante scrive la lavagna. L'insegnante scrive la lavagna A, B, C. Io scrivo A, B, C. E che vuol dire? L'insegnante parla. Impara ad ascoltare. Vedi che torniamo sempre al punto numero uno? Torniamo sempre al punto uno. Impara ad ascoltare. Apri i canali di comunicazione e scrivi delle parole. Magari le prime volte ti accorgerai di scrivere male quegli appunti. Ma quella è una questione di allenamento. Andiamo. Numero quattro. Usa la voce. Allora, attenzione. Questi due. In realtà questo quarto punto io l'avrei anche potuto mettere per ultimo. Perché usare la voce io intendo a casa. Cioè, ragazzi, lo studio è fissare, fissare, allenarsi a dire, a parlare, costruire frasi, costruire linguaggio. Molto importante, tra l'altro, perché una persona che parla è affascinante, è sexy. Chi parla correttamente, chi parla bene, proprio ti prende, ti prende, ti prende. Allora, quello ti voglio dire. Cioè, abituatevi al linguaggio, a parlare. Usate la voce. Questo è molto importante a casa. In quei tempi che dedicherete allo studio, perché poi dedicherete dei tempi allo studio, quando siete a casa, e vedrete che piano piano saranno ridotti. Saranno sempre più ridotti. Usate la voce. Parlate. Con il muro. Con il muro. Seduti al bagno. Seduti al bagno. Di fronte. Parla. Cioè, parla, parlate, perché l'uso della voce è il primo modo per dire ci sono, esisto, voglio comunicare, voglio comunicare con voi, voglio comunicare con mia madre, con mia frate, con mia sorella, con mia zia, con mio zio, con la nonna, con la professoressa, col professore. Cioè, il modo di comunicare una cosa passa attraverso l'uso della voce e si allena. Il cantante si allena ad utilizzare la voce, anche se è dotato a livello vocale. Molto bravo. Ma deve cantare, deve fare prove. È molto importante. Non si può privare delle prove, il cantante. L'attore non si può privare di, a scena vuota, a teatro vuoto, di fare le prove. Ha bisogno di immaginarselo quel pubblico. Allora diventa meravigliosa la sua performance artistica. Lo stesso è per voi. Cioè, l'utilizzo della voce è funzionale all'essere poi meravigliosi. Quando vi trovate davanti a una persona, un professore in questo caso, dovete esporre. Prendetevi anche i tempi. Se mi posso permettere, quando ripetete, prendetevi i tempi. È bello sentir parlare a una persona e non interromperla, perché tu vuoi sentire quello che ha da dirti. Specialmente se è uno studente. È bellissima sta cosa. Ultimo commento. Ultimo punto. Questa è proprio la Vincenzo. Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo. Questo è tutto mio. Ma questo è particolarmente mio. Io ho tempo di aspettare che la professoressa mi chiamasse all'interrogazione. Non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Perché avevo da fare. Avevo da fare i concerti col violino. Cioè, se i professori accettavano volontari e nella mia classe, diciamo che un 40% degli insegnanti accettava volontari. 40, non ho detto 100, ho detto 40. Io li sfruttavo. La sfruttavo questa cosa. La sfruttavo a mio favore. Andavo volontario. e mi toglievo davanti fatto, fatto, sai il verde, fatto. Quell'interrogazione, quella cosa. Perché dovevo fare altro? L'estrema... Guardate, qui... Qui, se volete, potete prendere tutto e chiudere in un'unica bolla dove c'è scritto sopra estrema organizzazione. A scuola, il passo primo, lo dovete fare voi. Cioè, capito? È come una partita a scacchi. La scuola è come una partita a scacchi. La prima mossa la dovete fare voi. Non dovete aspettare che gli altri facciano la mossa. Perché vi fregano. E fanno scacco matto in un attimo. Quindi, occhio, è in mano a voi la situazione. Allora, ok, basta, perché è troppo lungo dopo. Questo io ho in testa a livello di punti che fanno veramente irrobustire il tuo metodo di studio. Perché ce l'hai in tasca il metodo. Il problema è che magari è debole. Attenzione in classe. Sfruttare tempi morti. Scrivere tutto. Tutto. Usare la voce. E poi andare volontari. Allora, basta. Io non dico più niente. Ditemi voi. Come vi trovate a livello di metodo? Se avete un metodo? Se non ce l'avete? Che cosa fate di particolare? Perché io sono sempre molto curioso magari di leggere nei commenti qualcosa che viene fuori. E che mi può dare lo spunto anche per pensare all'apprendimento da un altro punto di vista. Io sono interessatissimo da questo punto di vista. Scrivete. Può essere utile anche a tutti gli altri. Anzi, è utile anche agli altri. Ci vediamo. Se volete aggiungere un punto in più, vi ha colpito uno dei punti che abbiamo analizzato. Ci vediamo venerdì prossimo. E allora io vi lascio con un paio di video interessanti nel gioco del discorso del metodo di studio. Il primo su come memorizzare le formule. E il secondo su un metodo di studio che viene chiamato Active Recall. Guardatevelo perché è molto molto interessante. A venerdì prossimo. Ciao belli.